Ok, quando vuoi. Fermo, 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 fermo. Fermo, molla, non stai tirando il cordino giusto. Fermo, fermo. Ok, molla pure e frenano un po', vai. Tira, 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 tira ancora. Ok, freno un po', corri, 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 perfetto. Bene, dai, buon decollo. Ok, sto via, fai, vai. Freno un po' e corri. Vai, va bene, dai. Tira bene, tira bene. Ok, vai, perfetto. Direzione manuale. Direzione. Perfetto. Bravissimo. Bel decollo. Attento che era un po' da est, vai. Perfetto. Ok, Massimiliano in volo, guarda. Una mano stacca via, fettuccio, Massimiliano. Perfetto. Bravissimo. Bellissimo decollo. Controllo, perfetto. Perfetto. Ok, è in volo, Tommaso. Ok, è in volo, Tommaso. Bel decollo. Frena, 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 frena. Ok. Tira. Frenala un po' e corri. Vai. Vai. Dai, uno c'ha la via, frena un po', frena un po'. Vai. Vai. Bravissimo. Bravo. Eh, però ti sei seduto, Manuel, così non va bene, eh. Eh, ha capito, no? Te hai capito. Ti fai ogni volta. Ando, a posto. Bravissimo. Ok. Ok. Vai sotto la vela, frena un po' e vai, 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 vai. Ok, bravissima. Vai, vai. Tira bene, controlla, frena un po', frena un po'. Ok. Direzione. Possiamo andare a scuola.